Continua il tour europeo del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Dopo l'incontro a Berlino con la cancelliera Merkel, il premier è atteso a Parigi e a Londra. Obiettivo? Convincere i leader europei ad abbandonare l'accordo sul nucleare con Teheran, sulla scia di Trump, un punto su cui non ha trovato l'assenso di Merkel. Abbiamo opinioni diverse sull'utilità dell'accordo e sulla sua efficacia. Tuttavia siamo uniti nell'affermare che il problema dell'influenza regionale dell'Iran è molto preoccupante, in particolare per la sicurezza dello Stato di Israele. Con Macron, Netanyahu insisterà sugli stessi punti. Non solo l'accordo sul nucleare, ma anche l'obiettivo di espellere dalla Siria tutte le forze armate iraniane. Il premier israeliano vuole impedire che l'Iran possa disporre in Siria di proprie basi militari.